Si celebrano oggi 30 anni dell'esordio di internet nel mondo. Internet ha cambiato un po' la vita di tutti noi, soprattutto nell'ultimo decennio, e i nativi digitali hanno sempre qualcosa da insegnare un po' a noi adulti. Oggi anche loro sono coinvolti in questa giornata che è diventata una giornata nazionale. Sì, è una giornata nazionale promossa anche dal MIUR, al quale noi abbiamo aderito come istituto comprensivo Quasimodo con un evento dal titolo Programma non farti programmare, che è un po' il light motive che ci ha condotto nelle attività di coding quest'anno a scuola, perché noi abbiamo proprio insistito sull'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. Non bisogna demonizzarle, però è chiaro che occorre fare una riflessione su un uso adeguato, perché spesso i ragazzi nativi digitali che sono esperti nell'utilizzo di queste tecnologie non ne conoscono bene i limiti, o comunque i limiti che forse si devono dare, e per cui è opportuno fare anche una riflessione di questo tipo. Peraltro oggi abbiamo voluto anche celebrare questo evento per fare anche un bilancio di tutte le iniziative che la scuola quest'anno ha portato avanti in materia di programmazione, di coding, tant'è che il coding quest'anno è diventato proprio un insegnamento curriculare per ciò che riguarda la scuola secondaria di primo grado e pensiamo anche, l'anno prossimo, speriamo di poterlo fare, di estendolo alle classi terminali della scuola primaria. Preside, come è cambiata la scuola negli ultimi anni con l'avvento di internet? Un primo strumento che ha un po' rivoluzionato il lavoro didattico in classe è rappresentato dalla LIM, ad esempio. La LIM ormai, diciamo, per certi versi è storia nella scuola, è uno strumento potentissimo, però ormai si utilizza da qualche anno. Diciamo che quella che è l'attualità è la cosiddetta didattica povolta, per esempio la Flippel Classroom, e quindi molte scuole, noi anche in questo senso, ci siamo mossi per poter cercare di portare avanti anche queste nuove metodologie didattiche, che le nuove tecnologie consentono di poter attuare. È chiaro che è uno strumento importantissimo, però va anche considerato il fatto che il rapporto fra docente e discente rimane al centro della relazione educativa. Questo non bisogna mai dimenticarlo, cioè sono solo degli strumenti, delle tecnologie. Poi è importante riflettere bene su come utilizzarle.